Undicesima prova del Mondiale FIA Rally Cross. Si torna in Germania, a Estering. Lo scorso anno il team Peugeot Hansen ha piazzato ben due 208 WRX sul podio. Lottando contro una concorrenza piuttosto agguerrita, Timmy Hansen è infatti riuscito a conquistare un superbo terzo posto, mentre il gradino più alto se l'è guadagnato il francese De Vigeny. Dopo la bella vittoria di Sebastian Loeb nella scorsa tappa a riga, il team Peugeot Hansen è oggi determinato a conquistare punti preziosi per recuperare il gap di soli 8 punti dal leader e lanciarsi alla conquista del Mondiale Costruttori 2016. Grazie a tutti.